Una ditta di spedizioni privata di Trento sembrerebbe disposta ad aprire un ufficio postale nell'Oltresarca. È il sindaco di Arco Alessandro Betta a dare l'annuncio e a ribadire la volontà di riaprire le poste a Bolognano, sia pure con un servizio privato, per ridare all'utenza un servizio tra i più importanti. La chiusura da parte di poste italiane, infatti, aveva sollevato la protesta dei cittadini e del sindaco stesso, oltre che di diversi consiglieri ed esponenti della comunità. Ad oggi la ditta di Trento continua a manifestare il suo interesse, ribadisce il sindaco di Arco. Si tratta di un servizio privato, certo, ma può andare incontro alle esigenze della cittadinanza. Nelle prossime settimane ci sarà una riunione tra i dirigenti del servizio postale privato e l'assessore al patrimonio Tommaso Ricci.